Il Comune di Belluno rinnova il Fondo Contributi destinato alle associazioni sportive per la cura dei sentieri. A breve sarà pubblicata la ricerca di partner attraverso un bando. Potranno candidarsi tutte le associazioni sportive che hanno organizzato o organizzeranno corse nel 2023-2024 e che per rendere fruibili i sentieri si impegneranno per la loro pulizia e manutenzione. Il Fondo ha l'obiettivo di valorizzare gli sport considerati minori come la corsa in montagna e ringraziare i volontari delle associazioni che rendono i percorsi fruibili, puliti, attrezzati e in sicurezza. Considerando che le associazioni sportive che organizzano queste gare, sistemano, puliscono e mettono in sicurezza questi tracciati che poi sono fruibili anche al di fuori della gara, sia per gli allenamenti ma anche dai cittadini comuni e che svolgono queste attività, queste associazioni a carico loro, portiamo avanti delle sinergie tra pubblica amministrazione e associazioni sportive e apriamo questo avviso di ricerca partner per la cura del territorio funzionale all'organizzazione di questi eventi sportivi.